Travolta da un'automobile mentre attraversava le strisce pedonali su una carrozzina spinta dalla figlia, uno scontro che non le ha lasciato scampo. Maria Betto, 83 anni, residente in zona e morta poco dopo essere giunta all'ospedale di Piove di Sacco. Poco prima, attorno all'11 un quarto, si trovava in via San Pio X assieme alla figlia, mentre attraversavano le strisce pedonali all'altezza dell'incrocio di via San Rocco e sopraggiunta a un'auto guidata da un altro anziano, un uomo di 87 anni, anche lui del posto. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia locale. L'automobilista, che dopo lo scontro si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi alla donna, ancora sotto shock e pare abbia detto di non avere visto l'anziana che attraversava la strada. La figlia dell'83 anni è rimasta lievemente ferita. Le condizioni dell'anziana invece sono apparse subito molto gravi. Soccorsa dal personale del suo è stata trasportata ad urgenza all'ospedale, ma tutte le cure si sono rivelate vane. La donna è ispirata poco dopo.